Buonasera Gino e Vittoria. Buon Natale e felice anno nuovo dalla famiglia Pandoffi. E ora sono qui Christopher e Jonathan, la riproduzione del brano Regionariamente registrato su YouTube da Gino e Vicenzo Perone. Allora. Ready? One, two, three. 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 Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.